Senatrice Montevecchie, continuiamo a parlare di risorse ma allarghiamo l'orizzonte a tutte le risorse che mette in campo il provvedimento. Innanzitutto come funzionerà il meccanismo di finanziamento ed è un meccanismo di finanziamento che vi convince? Allora parliamo del finanziamento alle opere cinematografiche o le risorse messe in campo? Del fondo in assoluto, del fondo che viene messo in campo. Allora in questo disegno di legge c'è la grande novità dei contributi automatici, no? Che andranno ad occupare una percentuale piuttosto alta di tutti i contributi erogati poiché solo un 15% mi pare sarà la quota dei contributi ancora selettivi che è il sistema che noi conosciamo. Ora l'automatismo è stato salutato positivamente dal mondo del cinema. Quello che noi non convince non è tanto il meccanismo dell'automatismo ma sono i criteri e i requisiti che sono stati per ora abbozzati all'interno del disegno di legge di Franceschini che sono meccanismi che guardano più che altro al risultato positivo aziendale dell'opera cinematografica e si dimenticano in parte di altri aspetti legati invece alla qualità culturale dell'opera cinematografica. Tra questi parametri quello che ci preoccupa di più è la bigliettazione perché noi sappiamo tutti che non può essere il parametro prevalente la vendita dei biglietti quindi l'ammontare dei biglietti venduti perché sappiamo che ci sono film magari con una qualità culturale non al top che comunque hanno avuto degli incassi migliori di altri film. C'è da dire che ad oggi, mi scusi se l'è troppo, è successo anche però che siano stati finanziati film che poi neanche sono mai arrivati in sala che non sono mai stati distribuiti. Quello è un problema però di persone che occupano ruoli all'interno degli organismi che poi dovevano e dovranno continuare a valutare la qualità artistica e culturale dell'opera. Quindi parliamo di soggetti che evidentemente non sono stati sempre obiettivi e non hanno fatto sempre confluire i finanziamenti dovrebbero dovuti farli confluire ed è mancata anche però la verifica, la valutazione ex post e anche a volte la richiesta di riottenere i fondi erogati come da legge. Quindi c'è anche una responsabilità istituzionale. Allora, cerchiamo di guardare al senatrice Montevecchi. Concorda sul fronte della distribuzione che dobbiamo ingranare la marcia giusta e magari andare uniti e compatti per vendere i nostri film all'estero? Allora, intanto io parto da un dato. Gli ultimi dati forniti da ANEC ci dicono che solo il meno del 10% dei film distribuiti in Italia poi approda al mercato estero che è principalmente costituito dal mercato francese e da quello spagnolo. Ho visto dei dati molto curiosi, addirittura noi sportiamo meno dei norvegesi, dei danesi. Come se lo spiega? In effetti il nodo della distribuzione è uno dei nodi che è stato affrontato anche durante le audizioni per questo disegno di legge ed uno dei problemi che è emerso è che il disegno di legge si pone come obiettivo di sanare anche se però mi pare che forse la fase emendativa migliorerà quelle che sono le intenzioni di questo disegno di legge che rimangono ancora un po' fumose. Un altro punto riguardo alla internazionalizzazione del nostro prodotto cinematografico è che appunto noi siamo ancora latitanti da questo punto di vista sia a mio avviso per una mancanza di strategia nazionale che faccia squadra e che abbia appunto un piano, una programmazione per la promozione del nostro prodotto cinematografico all'estero quindi una strategia diciamo nazionale poi è chiaro che c'è anche una difficoltà ad attivare dei partenariati cioè delle coproduzioni internazionali si fa ancora fatica su questo versante e sicuramente queste sono cose che vanno incentivate a onor del vero nel disegno di legge c'è qualche proposta che a mio avviso però va migliorata e che noi ci siamo proposti di migliorare presentando delle modifiche degli emendamenti concludo dicendo che prima la senatrice Di Giorgi parlando di cinema, de sé e di educazione all'immagine e anche la promozione della conoscenza delle professioni nel cinema sono tutte cose che al momento non stanno nel disegno di legge Franceschini quindi la senatrice Di Giorgi sta già parlando di un testo emendato o forse si ricorda quello che era il suo testo ma se parliamo del disegno di legge Franceschini lì l'educazione all'audiovisivo non c'è mi fa piacere che ne parli sì, non c'è nei termini in cui c'era e quindi stiamo parlando di un testo che ancora non esiste mi fa piacere che ci sarà altrimenti parola, cineturismo, la spaventa la senatrice Montevecchi? non mi spaventa affatto so che nei corsi di laurea presso i dipartimenti di arte, musica e spettacolo a Bologna sono già state scritte delle tesi di laurea sul fatto che alcune location diventano poi centri turistici particolarmente graditi e questo gradimento aumenta chiaramente legata anche alla promozione del film che è stato girato in queste location quindi mi pare un processo abbastanza normale e concordo con il senatore Marin nel dire che non dobbiamo temere che ci sia un ritorno turistico grazie poi alla promozione cinematografica di certi luoghi anzi, può essere un importante volano e tornando invece alle film commission vorrei dire che però dobbiamo stare attenti perché al momento sul territorio nazionale non tutte le film commissions funzionano bene c'è una certa disomogenità riconosciuta dagli operatori del settore Cesaro non è l'opposizione che vuole trovare assolutamente delle cose negative ma questa è la realtà dei fatti ecco allora che nel disegno di legge oltre giustamente a riconoscere l'esistenza di questi organismi che tanto fanno sui territori per aiutare l'organizzazione nella ricerca delle location i permessi e tutto per chi vuole girare film ecco preoccupiamoci anche però magari di prevedere forse anche dei percorsi standard amministrativi per la compilazione di certi documenti o delle valutazioni poniamoci questo problema noi abbiamo fatto delle proposte in questo senso e visto che oggi mi pare che il governo sia particolarmente aperto alle proposte delle opposizioni Allora sentiamo se la senatrice Di Giorgi condivide queste sollecitazioni Condivido solo un minuto in effetti dire che nel disegno di legge Franceschini si ricalca il modello francese è un po' troppo c'è un qualche spunto ce n'era un po' di più nel Di Giorgi che era di iniziativa parlamentare e quindi il governo è un po' entrato a gamba tesa con un suo provvedimento che noi abbiamo salutato favorevolmente Brevemente sull'apertura C'è chi come abbiamo sentito senatrice Montevecchi non va al cinema perché ha difficoltà economiche non può permettersi di acquistare un biglietto iniziative come queste naturalmente fanno ben sperare Altra cosa però è rappresentata dai dati bassi ancora troppo bassi del nostro paese in generale sui consumi culturali in molti casi si tratta di persone che magari potrebbero permetterselo di andare nei musei a teatro Qual è il problema? Qual è il nodo da sciogliere? Probabilmente il nodo da sciogliere è proprio quello culturale cioè quello di recuperare in questo paese un percorso anche di educazione a me il termine educazione non piace particolarmente ma comunque di promozione di accompagnamento verso la fruizione di prodotti culturali se noi pensiamo che nella nostra scuola è stato tolto l'insegnamento di materie o depotenziato l'insegnamento di materie come la storia dell'arte ecco che poi oggi non ci possiamo stupire o manca l'educazione all'audiovisivo alla fruizione del cinema il mondo per il mio 18 anni introdotto dal governo questo lecce in 500 euro potrà funzionare ho già detto in altra trasmissione che cosa ne penso e quindi non mi dilungo qui una misura positiva che però a nostro avviso contiene anche una finalità di propaganda politica volevo concludere però dicendo che accanto a questa bella iniziativa del biglietto sospeso c'è un'altra il friend movie di due fratelli a Biella tramite smartphone e pc si può acquistare un unico biglietto scontato e due persone possono andare al cinema è frutto di una start up bellissimo esistono anche però esiste libera il cinema che libera dalle mafie cinema itinerante gratuito in tante piazze ce ne sono naturalmente tantissime e infine a Bologna ne abbiamo rappresentata una me lo faccio a dire perché è bellissimo una novità le visioni disturbate il cinema aperto alle famiglie con bambini anche piccolissimi con visioni dedicate per non togliere anche le giovani coppie amanti del cinema la possibilità di andare al cinema con i propri bambini piccini visioni disturbate a Bologna bellissima iniziativa grazie